Stellantis, dopo 40 anni di attività, festeggia oggi 7 milioni di veicoli prodotti nello stabilimento Sevel di Atessa, il più grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri. Presso la Sevel vengono prodotti i telai e i furgoni Fiat Professional Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer e Opel Vauxhall Movano. Il team di Sevel contribuisce quotidianamente a raggiungimento del grande obiettivo di essere leader del mercato dei veicoli commerciali. Lo dice Uwe Osh Gesshurtz, Chief Operating Officer di Enlarged Europe. Lo stabilimento ha una lunga storia e continuerà a svolgere un ruolo fondamentale per il raggiungimento del 40% del mix di vendite dei veicoli elettrici a batteria entro il 2030. Nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis punta a raddoppiare i ricavi dei veicoli commerciali entro quell'anno, rispetto al 2021 potenziata da 26 nuovi lanci che comprendono soluzioni elettriche in tutti i segmenti. Nel primo semestre del 2022 Stellantis è stata leader sia nel mercato europeo che in Sud America, rispettivamente con una quota del 33,2% e del 37%. Stellantis fornirà a Toyota Motor Europe un nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni, anche in versione elettrica a batteria, che sarà commercializzato in Europa con il brand Toyota e sarà prodotto negli stabilimenti Stellantis di Atessa in Italia e di Gliwis in Polonia. Il sito produttivo di Seville è stato creato come joint venture tra FCA e PSA Peugeot Citroen nel 1978, inaugurato nel 1981. Seville ha una superficie di oltre 1.200.000 m2 e può produrre fino a 1.200 veicoli al giorno.